...non esiste molto... ...e Luca ha soprattutto il suo modo di pensare... ...credo che arriva alla trovazione da parte sua sulle lezioni del genere... ...e... 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 ...si attormenta... ...veramente... ...questa è una macchina elettrica... ...sì sì... ...ecco qua... ...ora stiamo per partire... ...e... ...vale... ...partiti... ...Alessandro... ...alla guida... ...ma... ...ha... ...ma lì... ...è... ...ah... ...è... ...ナ... ...na... ... metro... ...ma... ...due... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.